Musica Sabato 11 marzo, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione di Telemolisse. Da capogiro le pensioni che continuano a percepire gli ex consiglieri regionali e parlamentari, mentre quelle dei comuni lavoratori sono sempre più magre. Sentiamo il servizio. C'è chi patisce la fame e chi si ingozza. Chi dopo aver lavorato una vita porterà a casa quattro spicci e chi dopo aver lavorato qualche anno ritirerà un assegno pesante. Ingiusto ma vero è la differenza che corre tra un mortale lavoratore e un politico di professione o di passaggio. Le pensioni dei comuni mortali sono sempre più magre, i più sfigati sono gli under 35. Il loro trattamento è interamente contributivo. Metodo che lega l'importo dei futuri assegni ai versamenti previdenziali effettuati nel corso della carriera. Più si versa, più sarà alta la pensione, ma con gli stipendi che ci sono in circolazione ai voi avversare. Prima del 1995 era in vigore invece il retributivo. L'importo era collegato alla media degli stipendi percepiti dal lavoratore prima di andare in pensione. Ma facciamo qualche esempio concreto. Secondo stime attendibili, una persona che percepisce un reddito medio di 10.000 euro netti all'anno, poco più di 800 euro al mese, dopo 35 anni di duro lavoro e dopo aver compiuto 69 anni, avrà un assegno pensionistico di 650 euro. E ora un esempio che riguarda i privilegiati. L'assegno meno sostanzioso che la regione Molise stacca per gli ex inquilini di Palazzo d'Aimmo è di 2.150 euro l'ordi al mese in porto maturato con appena 5 anni di lavoro in consiglio. I meno fortunati di Palazzo d'Aimmo sono tra gli altri, solo per fare qualche nome, come Florenzo Anniballe, Sandro Arco, Maria Angela Astore, Giuseppe Gallo, Giovanni Emilio Giorgetta. In tre invece portano a casa l'assegno più alto, 5.495,76 euro per Rosario De Matteis, Luigi Di Bartolomeo, Antonio Di Rocco e Paolo Nuvoli. Qualche euro in meno, 5.235,30 euro per la precisione, finiscono nelle tasche di Luigi Verardi. Nicolino Colalillo, Giuseppe Lavalle, Norberto Lombardi, Francesco Mancini ed Enrico Santoro. Non se la passano male, oltre 4.000 euro al mese, Gianfranco Vitagliano, Mario Verrecchia, Luigi Velardi, Italo Testa, Luigi Pardo Terzano, Vittorio Rizzi, Natalino Paone, Augusto Massa, Giovanni Di Pilla, Camillo Di Pasquale, Giovanni Di Giandomenico, Ettore Di Domenico, Antonio Del Torto, Costanzo Delia, Pardo Antonio Dalete, Antonio Chieffo e Giuseppe Astore. Palazzo Daimmo eroga ogni mese agli ex consiglieri quasi 280.000 euro per un importo annuo di 3.350.000 euro errotti. Asfalto, barriere, giunti e segnaletica sono i lavori che la provincia di Campobasto ha già consegnato che presto inizieranno lungo la tangenziale est del capoluogo. Il tratto interessato va dallo svincolo di Piazza Molise alla Galleria a direzione Ingotte. Nel momento in cui partiranno i lavori verrà istituito il senso unico alternato per il traffico. I Sernia, parliamo di scuole sicure, rieprerà a breve la sede storica del liceo Fascitelli, mettendo così al riparo in una struttura ripristinata perfettamente sia ai ragazzi del classico che del linguistico, che potranno a loro volta essere trasferiti nelle aule lasciate vuote dall'ITIS, dagli studenti del Fascitelli. Enzo Di Gaetano. Lavoro in dirittura d'arrivo per la sede storica del liceo Ginnasio Onorato Fascitelli di Corso Garibaldi. Il cartello collocato all'esterno dell'edificio in fase di ristrutturazione, reca quale data finale dei lavori, quella del 9 marzo e a quanto pare mancano effettivamente solo pochi ritocchi prima che l'intervento sia ultimato. Alcuni lavori alla palestra e la struttura sarà pronta. I tecnici dell'ente provincia, unitamente al consigliere delegato in materia di edilizia scolastica Fabrizio Tombolini, hanno effettuato il sopralluogo sul cantiere verificando l'esecuzione dei lavori. Il presidente della provincia, Lorenzo Coia, conta che entro la fine del mese di marzo l'istituto possa essere pronto. Poi occorrerà fissare la data del ritorno tra i banchi degli studenti nell'edificio che da sempre è stato la sede del Fascitelli. Il presidente di Via Berta ha preannunciato l'impegno massimo affinché i liceali dell'ultimo anno possano affrontare le prove dell'esame di maturità nella storica sede di Corso Garibaldi. Una notizia quella della conclusione dei lavori di cui gli studenti erano in attesa da diversi anni e che era anche tra gli argomenti affrontati nel dibattito relativo alla questione sicurezza delle scuole. Nella sede della Polizia Municipale di Campobasso è stata firmata la convenzione tra il Comune e l'Associazione di Volontariato Meteo in Molise, Onlus, per gestire il servizio dei nonni vigili per quest'anno in via sperimentale. Un servizio di supporto all'attività della Polizia Municipale che sarà prestato davanti alle scuole negli orari di ingresso e uscita degli alunni. I nonni vigili svolgeranno anche sorveglianza in manifestazioni sportive, culturali, ricreative e turistiche durante le cerimonie pubbliche. Lasciamo l'informazione, andiamo ora alla rassegna stampa. Nicola Passarelli dalla Regia, inquadra il giornale del Molise.it. Sanità pubblica, frattura, taglia tutto, si va verso la desertificazione ospedaliera. Una frana minaccia la statale 87, la ferrovia tra Larino e Casa Calenda, isolato, un bed and breakfast. Prete ricattato in retroscena dell'indagine condotta dalla Polizia Postale di Isernia. Poi sempre Isernia, operazione antidroga dei carabinieri, fermati tre spacciatori. Il teatro dell'oppresso per combattere la violenza di genere, poi come abbattere gli sprechi di carte d'energia in ufficio. Primo piano Molise, frattura, se non passa la legge elettorale ce ne andiamo a casa. Il governatore ha chiesto di accelerare la discussione del test in aula, due circoscrizioni, via Listino e voto disgiunto, premio di maggioranza a chi vince. In 68, fuori dall'accordo sindacale, scoppia il caso, filiera avicola ad Amadori. Con l'auto nel torrente, paura per un bimbo è accaduto a Santa Gabito. Isernia, nuova sede per il giudice di pace e fondi per il tribunale, le richieste del presidente Di Giacomo al sottosegretario Ferri e Saudite in poche ore. A Macchiagodena, gratta e vince, 500 euro al mese per 20 anni. Frana, a Creta Rossa, lo smottamento lambisce la Statale 87 e la ferrovia a Larino. Poi occupazione, bene il consuntivo Istat 2016 anche al sud e in Molise. Termoli, blitz della finanza sulla foce del fiume Biferno, ha sequestrato un casolare abusivo. Lo sport, Isernia nel darby con il Cus, basta un punto per la A, il Palafaraccio è pronto a festeggiare il salto, poi Serie D, Campobasso parte il Bonifico per saldare l'avvertenza di Lanzillotta. Calcio regionale, due anticipi in eccellenza, ci sono Isernia, Treppini e Venafro Termoli. Andiamo a vedere l'apertura del quotidiano, riparti, posti, letto, la cura non è in dolore, il forum alza la voce dopo la pubblicazione del decreto, la percentuale dei peri privati è il doppio della media nazionale. Campobasso, sei esponenti del PD appoggiano Emiliano. Intanto la tangenziale est, lavori ed interventi sulla tratta. Ad Isernia, boccata d'ossigeno per il futuro del Tribunale, 90 mila euro. Monacilioni preso il ladro che decapitò la reliquia di Santa Benedetta. Campobasso, brutale aggressione al pronto soccorso, una denuncia. Si sgretola un costone nelle campagne di Larino, area isolata, detriti che finiscono sulla statale. Poi abusivo, il ristolante vista mare scattano i sigilli della finanza. Auto precipita nel torrente, un volo da brividi per due fratelli, incidente a Sant'Agapito. Nuova era per TRSP, emittente del Popolo di Dio, alle 16, diretta su Canale 15. Diamo lo sport eccellenza, l'Isernia contro i Treppini per un posto playoff. E poi il CUS sulla strada della Capolista ad un passo dal trionfo. Andiamo alla Gazzetta Molistana. Frattura presidente che non si trova. Il sistema economico molistano è alla frutta. Mancano piani e azioni programmatiche, sindacati, sindaci e cittadini hanno difficoltà al confronto. Il nostro Oscar va ad Aida Romagnuolo, l'Oscar della Gazzetta ovviamente, il tapiro del giorno a Stefano Ramondo. Poi per l'ardire, Campobasso, se il centro prelievi viene chiuso. Futuro Molise, sanità molistana, finalmente Frattura scopre le carte ed è molita la sanità pubblica. Il ditoriale tour nei comuni dell'Alto Molise, economia basata su pensioni e pompe funebri. Tutto il resto è desolazione. Master plan Boccardo della Will, non basta incamminarsi, bisogna correre. Sinistra italiana Molise, la regione accolga l'appello della rete sindaci per l'acqua pubblica. I quotidiani nazionali, il Corriere della Sera, la sfida di Renzi, basta paure, il PD non è la casa dei reduci ma degli eredi, sia al segretario premier. Sondaggio sulle primarie, l'ex presidente del Consiglio al 53%, Orlando al 25%. Sarà un'Europa più velocità, Merkel uniti nella diversità. Questo è il vertice a Bruxelles. La statua di 8 metri del faraone spezzata dalla ruspa, polemica al Cairo sulle tecniche di scavo. Dal Corriere della Sera andiamo a vedere l'apertura di Repubblica. Renzi riparte dal lingotto, no alla sinistra della paura, serve lavoro, non reddito di cittadinanza e critica l'Unione Europea della burocrazia. Lodi, il ristoratore uccide un ladro, il paese è con lui, giusto difendersi. I PM l'accusano di omicidio volontario. Dalla Repubblica alla stampa, la sfida di Renzi, basta aver paura, l'ex premier riparte dal lingotto, il futuro non deve spaventare, dettiamo noi l'agenda. I nostri medici eroiche non si fermano mai. A Parma, una pneumologa, lavora per 24 ore consecutive, ecco come vivono gli stacanovisti della sanità. Dalla stampa al tempo, che titola Noi stiamo con Mario, ristoratore di Lodi, uccide il ladro, sorpreso a rubare nel locale. Il PM lo indaga per omicidio colposo. La politica è l'Italia. Divise. Salvini batte i teppisti e va a Napoli. Tensioni per il comizio del leghista. E dopo il tempo, il messaggero bonus 80 euro, così si cambia. Il piano del governo, pronti a intervenire anche per disinnescare la mina dei contratti, il benefit potrebbe diventare detrazione d'imposta, tetto fino a 32 mila euro di reddito. Fedeli, riformiamo la buona scuola con gli insegnanti. Poi, eccezionale ritrovamento di una colossale statua del faraone, Ramses II, riemerge dal fango del Cairo, ma come abbiamo visto purtroppo con la testa mozzata. Andiamo ora al fatto quotidiano. Renzi, come Berlusconi, usa gli indagati, suicidi contro i magistrati vivi. All'ingotto plagia anche il blog a Grillo e la scuola di politica a Letta. L'eclissi del sole 24 ore, soldi spariti e vendite taroccate. 10 indagati, tra cui il direttore Roberto Napoletano. Dopo il fatto quotidiano, vediamo l'apertura di avvenire. Unione europea insieme, divisi. A Roma nascerà l'Unione europea a due velocità. Juncker non ci sarà una cortina di ferro. Il Consiglio europeo si chiude senza un documento finale e con il no dell'Est. Gentiloni media indica quattro priorità da perseguire. Corea del Sud, rischio caos, scontri dopo l'impeachment del presidente. Due morti. Il mattino basta con la sinistra della paura. Renzi riparte dall'ingotto. Non siamo reduci ma eredi e stiamo con Gentiloni. Salvini a Napoli, Minniti dice sì, no della mostra d'oltremare, ma il comizio si terrà. Dalla mattina vediamo Libero, se spari al ladro delinquente sei tu. La legge sulla legittima difesa aiuti criminali dice Libero. In piena notte tre criminali stranieri irrompono in un'osteria. Il proprietario spaventato apre il fuoco e ne uccide uno. Rischia 30 anni di galera. Il ministro Costa, bisogna poter reagire, intervista al ristoratore, non si sono fermati al mio alto e non avevano nessuna paura. Vediamo il manifesto che titola Lincotto, un leader sconfitto che vuole riprendersi segreteria e governo. Renzi riporta il PD a Lincotto, elogia il suo esecutivo, critica i reduci rancorosi, attacca i burocrati di Bruxelles e replica lo slogan del partito patriottico della nazione e alla Kermess scatta l'applausometro. Andiamo alla verità, i numeri che smascherano l'invasione degli immigrati. L'indagine rivela come sono stati disattesi gli accordi con l'Italia sbandierati in sede europea. La redistribuzione degli immigrati giunti qui è una barzelletta, dice la verità. La Germania doveva prendersene 28 mila, ne ha accolti appena 1.300. Scandalo al sole, indagato il direttore napoletano. Fate presto. Andiamo ora al secolo d'Italia che titola Diritto di difendersi, sempre riferito alla vicenda di Lodi. Concludiamo con la gazzetta dello sport, rivincita di Bala. Il Milan è furioso, l'argentino si vendica dell'errore di Doha e segna a Donnarumma. Il rigore decisivo al 97 per un Mani, rivelatosi involontario. Rossoneri contro l'arbitro, nel primo tempo non dato un penalty ai bianconeri. Ferrari da sogno, Raikkonen fa il record nei test. Bello guidare questa macchina. Poi D'Ambrosio intoccabile, ora insegue l'azzurro. E con la gazzetta dello sport concludiamo il nostro appuntamento con l'informazione del mattino. Ma l'informazione di Telemolise torna alle 14. Grazie per averci seguito, buona giornata. Grazie per averci seguito, buona giornata.